Teresa Langella e Andrea Dal Corso E ufficiale, Teresa Langella e Andrea Dal Corso si stanno frequentando Nelle scorse settimane si è parlato moltissimo dei risvolti che ha avuto la scelta di Teresa Langella. La tronista partenopea ha scelto Andrea Dal Corso che ha clamorosamente risposto di no. Sono seguite infinite polemiche e accuse allex corteggiatore che col passare del tempo ha cercato di dare le sue motivazioni. Tentativo inutile, visto che è stato sotto accusa senza possibilità di replica. Pochi minuti fa, però, è arrivata linattesa indiscrezione. Sul profilo Instagram di uomini e donne è stata postata la notizia che Teresa Langella e Andrea Dal Corso si stanno frequentando nuovamente. . Comprensibilmente non sono stati dati ulteriori dettagli ma i fan già iniziano a sognare una fantastica storia damore. Il no di Andrea Dal Corso a Teresa. Sin dallinizio del suo percorso a uomini e donne, Teresa Langella si è fatta conoscere ed amare, non solo per la sua bellezza ma anche per la sua bontà danimo e la sua dolcezza. . Ha sempre detto di cercare un uomo che le regalasse una storia da favola e che riuscisse a capirla e soprattutto ad amarla lontano dalle telecamere. Dopo aver conosciuto diversi ragazzi, la bella napoletana si è concentrata su Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. . Due persone completamente diverse. Il primo dolce, sensibile e un po' insicuro, il secondo determinato, grintoso e pieno di sé. . Con loro due è arrivata alla villa, dove ha vissuto grandi emozioni e sino allultimo non ha dato modo ai fan del programma di Canale 5 di capire chi effettivamente fosse la scelta. . Nonostante le titubanze e le preoccupazioni ha preferito scegliere Andrea, il ragazzo che durante il percorso di uomini e donne ha creduto fosse il meno sincero. . Il bel corteggiatore, purtroppo per Teresa, ha preferito non presentarsi alla festa per la scelta, dicendo praticamente di no. Teresa Langella e Andrea Dal Corso si frequentano. . Ora la situazione sembra essere completamente diversa, i due si stanno frequentando. La notizia è apparsa sul profilo ufficiale di Uomini e Donne. . Non sono stati dati ulteriori dettagli sulla situazione ma di certo se ne parlerà a lungo nelle prossime settimane. . Un annuncio che ha lasciato spiazzati tutti i fan di Uomini e Donne che non si attendevano questa evoluzione. . Di certo se ne parlerà nei prossimi giorni e come si intuisce dalle immagini i due sono stati ospiti in studio. . Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa realmente sta accadendo tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. .